Sembra incredibile, ma la tassa di soggiorno pagata dai turisti a Bassano si traduceva in una serie di incombenze burocratiche per albergatori e bed and breakfast. Insomma, all'alba del 2020 era tutto ancora cartaceo con moduli e code, finché finalmente il Comune ha messo in atto una procedura con interfaccia informatica, come accadrebbe in qualsiasi paese voluto. E non deve neppure essere stato semplice, perché l'iter avviato dalla precedente amministrazione ed ereditato dall'attuale si è concluso solo ora. Si tratta di un euro al giorno pagato dai turisti che va in attività per il territorio, attualmente 120.000 euro all'anno. Abbiamo dei programmi ben precisi per il bilancio 2020 rispetto alle risorse che verranno raccolte per l'imposta di soggiorno. C'è una serie di iniziative e di attività di promozione del territorio, di promozione del centro storico, di avvicinamento e di attività per favorire anche la stessa ricettività della nostra città. Come verranno spesi per attività turistiche resta ancora un po' nebuloso, ma si attende fiduciosi. Anche perché, come ci dice la Presidente degli albergatori, i turisti capiscono e pagano ormai senza fiatare. Secondo me sì. Ovviamente nei numeri c'è sempre qualcuno che non lo vuole fare, ma sono veramente limitazioni. Io credo che oramai il turista si muove e sa che l'imposta di soggiorno esiste e si paga. Io questo non lo vedo come un problema.